le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di giovedì 4 maggio ariete ancora non riuscite a venire fuori da certe situazioni che vi stanno stressando sul lavoro cercate di tenere duro in questo momento valutate con attenzione anche alcune proposte toro il lavoro è certamente in primo piano a causa dei transiti positivi del periodo è una giornata indicata per prendere decisioni per contattare per dare il via ad una nuova impresa gemelli una luna fantastica illumina questa giornata il lavoro promette davvero benissimo con la possibilità di incassare gratificazioni morali e materiali cancro potete sempre contare su un ottimo mercurio che oltre ad infondervi un grande ottimismo vi fa ritrovare anche un'ottima condizione fisica e mentale leone le amicizie vi sostengono in maniera fantastica non vi sentite mai soli e questo vi dà una carica straordinaria ogni volta che andate in difficoltà trovate qualcuno pronto ad aiutarvi vergine la luna in bilancia un alleato davvero fantastico per il lavoro i soldi gli affari immobiliari dovete impegnarvi a far fruttare al massimo le vostre idee bilancia luna nel vostro segno la giornata si presenta positiva nonostante molti problemi che dovete affrontare in amore c'è sempre qualche tensione da smorzare scorpione questa luna sembra chiudere un ciclo avete lavorato molto ottenendo spesso dei risultati brillanti ora è giunto il momento di fare il punto della situazione sagittario dopo la luna difficile dei giorni scorsi ritrovate una grande vitalità vi sentite più in forma pronti ad affrontare qualsiasi avversario e perché no il partner capricorno giornata molto difficile a causa della posizione della luna siamo entrati in una fase delicata le collaborazioni e rapporti con gli altri continuano a crearvi difficoltà acquario una bella luna rende questa giornata molto positiva state uscendo da un periodo difficile sarà quindi il caso di non strafare e di agire con circospezione pesci la luna in bilancia tende a nascondere le vere difficoltà sia sul lavoro che nella vita privata limitatevi alla normale amministrazione anche venere in vita alla prudenza e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitarò su facebook alla pagina oroscopo di azus grazie a tutti